L'Iran scende in piazza a Teheran e in altre città iraniane contro gli Stati Uniti e Israele e lo fa a un giorno dall'entrata in vigore delle sanzioni reintrodotte dal Presidente americano contro il Paese. Le manifestazioni sono state organizzate per celebrare il 39esimo anniversario del sequestro dell'Ambasciata degli Stati Uniti avvenuto nel 79 a Teheran, dove per lo più le migliaia di contestatori sono riuniti. Intanto il capo della Commissione Esteri e Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha ribadito che non cadranno nella trappola di Trump. Le sanzioni di Trump contro il popolo iraniano ci hanno uniti ancora di più e più si scagliano contro di noi più resistiamo. Il popolo iraniano dimostrerà a tutti la fedeltà verso il loro supremo leader Khomeini. Il ripristino di tutte le sanzioni adottate dagli USA nei confronti dell'Iran rischiano le proteste, certo di altro tenore, anche di Cina, Unione Europea e Russia, che non potranno continuare a importare petrolio dall'Iran. Grazie. Grazie a tutti.